Eccoci su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronache partendo dal Catanese dove i carabinieri hanno tratto in arresto un 36enne a tre castagni, l'uomo infatti minacciava e maltrattava la propria compagna e poi abusava delle figlie minorenni di lei. Un 36enne ucraino è indagato per maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali aggravate nei confronti della convivente. Una 38enne ucraina nonché di violenza sessuale aggravata con minorenni e adescamento ai danni delle prime due figlie di lei. La procura distrettuale della Repubblica ha richiesto e ottenuto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico eseguita dai carabinieri della stazione di Tre Castagni. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte tenute dall'uomo durante la convivenza e a fasi alterne durante i periodi di riavvicinamento con la compagna. La donna sin dal 2013 sarebbe stata vittima di diversi episodi di violenza fisica da parte del compagno che l'avrebbe colpita con schiaffi e pugni anche durante la gravidanza da cui sarebbe nata la sua terza figlia. Ai quotidiani insulti nei confronti della 38enne sarebbe inoltre eseguita l'intimidazione dell'uomo di non firmarle i documenti per il rinnovo del permesso di soggiorno con lo scopo di ingenerare in lei il terrore e l'ansia per il suo futuro in Italia, strumentale a una sua richiesta estorsiva di 1000 euro. Ulteriore terrore nella donna sarebbe poi stato provocato dalle continue minacce di uccidere lei, le sue due prime figlie minorenni avute da una precedente relazione, e sua madre nell'ipotesi in cui avesse deciso di denunciarlo o di portare via con sé la terza figlia nata dall'unione con il 36enne. Nello scorso mese di luglio l'uomo è stato ammonito dal questore, tale provvedimento avrebbe temporaneamente ammorbidito le sue condotte nei confronti della convivente, tuttavia dopo un'iniziale riapplicificazione la situazione sarebbe ulteriormente degenerata, attraverso il verificarsi di altri episodi di violenza che avrebbero ancora più avvilito la donna e le figlie. Queste ultime avrebbero poi confidato alla madre di essere state bersaglio di ripetute attenzioni, raid notturni e tentativi di approcci sessuali da parte del 36enne. Al riguardo l'uomo avrebbe inizialmente diretto le proprie mire verso la primogenita della compagna quando era ancora minorenne. L'uomo sarebbe spesso entrato in camera della minore intrattenendo con lei conversazioni su rapporti sessuali per poi mostrarle un libro sull'argomento e chiederle se tutto questo le piacesse. In un altro episodio, dopo essersi seduto accanto a lei sul divano, l'uomo avrebbe cercato di palpeggiarla in varie parti del corpo e di baciarla sul collo, non raggiungendo il suo scopo solo perché la giovane si era rapidamente allontanata. Di recente, a partire dallo scorso mese di luglio, l'uomo avrebbe poi concentrato le sue attenzioni anche sulla secondo genita minorenne della compagna, confessandole che stava usando le sue ultime forze per trattenersi perché era fortemente attratto da lei e chiedendole se provasse la stessa cosa per lui. Il 36enne sarebbe poi comunque passato le vie di fatto, infilandosi durante la notte, nel letto della minorenne, palpeggiandole il seno e le parti intime. Solo la ferma avversione della ragazzina che lo aveva respinto con forza, avebbe impedito che l'uomo potesse soddisfare completamente le sue torbide voglie. Restiamo nel Catanese per un'altra notizia di cronaca. Un 42enne, paziente dell'ospedale di Biancavilla, nelle prime ore del mattino si è lanciato da un balcone del presidio. Inutili, i soccorsi dei medici. Lo rende noto l'ASP di Catania, precisando che non sono ancora chiare le cause del gesto. Sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti, mentre l'ASP ha avviato degli approfondimenti. Esprimo il nostro sgomento e il dolore in seguito al tragico evento verificato si stamane, dichiara il direttore medico del presidio Mario Patanè. Siamo vicini ai familiari ai quali assicuriamo tutto il nostro supporto. Voglio inoltre ringraziare i carabinieri per il loro tempestivo intervento. Cambiamo argomento, parliamo di mazzette a un funzionario della protezione civile della regione siciliana. Due le persone arrestate finite ai domiciliari, si tratta dello stesso funzionario e di un imprenditore. L'accusa per loro è di corruzione. Un funzionario della protezione civile regionale siciliana avrebbe ottenuto soldi da un imprenditore per velocizzare i pagamenti di lavori eseguiti. Sulla sua scrivania sarebbero stati posati i tre pacchetti, probabilmente soldi, presentati alla consegna come caramelle. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza ai domiciliari emessa dal GIP sia nei confronti del funzionario regionale che dell'imprenditore, entrambi accusati di corruzione. Le indagini condotte dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria avrebbero fatto emergere che il funzionario addetto alle procedure di liquidazione in cambio di denaro si sarebbe adoperato per velocizzare i controlli di propria competenza e sollecitare i propri colleghi a svolgere prontamente i loro adempimenti affinché venissero pagate in tempi brevi fatture per circa 130 mila euro. L'imprenditore sarebbe stato il referente di due società del messinese nel settore edile che hanno eseguito lavori di pubblico interesse commissionati da comuni delle province di Cartanissetta e Messina. I due, secondo la tesi dell'accusa, si sarebbero incontrati nell'ufficio alla protezione civile e qui, e quello che contesta la procura di Palermo, sarebbe avvenuta la consegna dei soldi quale pagamento dei servizi ottenuti dall'imprenditore. A Ragusa, invece, i carabinieri hanno denunciato una 24enne catanese il quale stava cercando di introdurre dei telefonini e delle SIM all'interno del carcere dove è detenuto il fratello. Vediamo il servizio. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Ragusa hanno denunciato all'autorità giudiziaria un 24enne catanese per il reato di tentato accesso in debito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Nel corso di un posto di controllo effettuato da una gazzella dell'arma nei pressi della casa circondariale di Ragusa, la pattuglia è stata allertata dal personale in servizio presso l'istituto penitenziario circa la presenza sospetta di un uomo nelle vicinanze delle mura perimetrali. Immediatamente i carabinieri hanno cercato di intercettare il soggetto, il quale alla vista della gazzella ha tentato di nascondersi all'interno di un cortile di un condominio sito nella strada adiacente al carcere. Nonostante i tentativi di eludere il controllo, il 24enne è stato fermato e sulla sua persona è stato rinvenuto un involucro opportunamente confezionato contenente all'interno quattro cellulari e altrettante schede SIM. Da successivi accertamenti è emerso che all'interno della casa circondariale era recluso il fratello del giovane catenese a cui verosimilmente era destinato l'involucro rinvenuto. In ragione delle circostanze telefonini e SIM sono stati posti sotto sequestro mentre il 24enne è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Ed ora ci spostiamo virtualmente nel Nisseno per la precisione a Gela dove la notte scorsa è avvenuta un'aggressione ai danni di un titolare di una pizzeria. L'uomo stava rincasando in via San Salvo quando è stato bloccato e picchiato violentemente con una spranga. La scena è stata vista dalla moglie e dalla figlia dell'uomo le quali sentendo le grida sono uscite fuori in balcone e hanno dato l'allarme chiamando i soccorsi. Successivamente l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela e da qui è stato disposto il trasferimento a Palermo presso l'ospedale Villa Sofia. Avrebbe riportato un grave trauma cranico e si trova ricoverato in prognosi riservata. Sulla vicenda stanno adesso indagando i carabinieri. Parliamo ancora dell'emergenza migranti e della situazione di Lampedusa. Sono infatti oltre 1.300 i migranti presenti attualmente nell'hotspot di Contrada in Briagola, ovvero questa struttura di prima accoglienza presente a Lampedusa che può ospitare al massimo 350-400 persone. Proprio per questo, per cercare di alleggerire l'hotspot, su disposizione della prefettura di Agrigento è stato disposto il trasferimento di 110 persone che in serata a bordo di un traghetto di linea giungeranno a Porto Empedocle. Ieri, sempre a Lampedusa, con sette diversi sbarchi, sono giunti 251 migranti. L'ultimo barchino è giunto poco prima della mezzanotte dopo essere stato soccorso dalla Capitaneria. A bordo c'erano 28 persone, compresi due minorenni e sette donne, originari di Costa d'Avorio, Guinea e Camerun. Dunque, questo è il quadro della situazione a Lampedusa. Oltre 1.300 migranti, dicevamo, presenti nell'hotspot, avverrà un altro trasferimento, ma la struttura continua comunque a essere affollata e al collasso, anche perché a fronte di trasferimenti arrivano continuamente altri sbarchi e approdano sull'isola altri migranti. Ed ora una notizia da Palermo. Un bambino di poco meno di un anno è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia, ma era già morto. I medici del nosocomio, infatti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo e hanno poi chiamato successivamente i carabinieri per cercare di far luce su questa vicenda. Secondo quanto appreso, i genitori avevano in un primo momento chiesto l'intervento dei sanitari del 118, salvo poi revocare la richiesta e trasportare personalmente il bambino in auto in ospedale. Restiamo nel Palermitano, ma ci spostiamo a Casteldaccia, dove i carabinieri hanno invece tratto in arresto un uomo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I dettagli del servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Bagheria hanno tratto in arresto un 46enne già noto alle forze dell'ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nell'ambito di un controllo alla circolazione stradale a Casteldaccia, hanno fermato l'autovettura a bordo della quale viaggiava l'uomo trovandolo in possesso di alcuni grammi di hashish. Nella successiva perquisizione, a casa dell'indagato, abilmente occultati all'interno della struttura di una finestra, sono stati rinvenuti oltre mezzo chilo tra hashish e marijuana, un bilancino di precisione ed anche materiale utile al confezionamento. L'operazione ha consentito altresì di recuperare e sequestrare la somma di quasi 800 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività delittuosa. La sostanza stupefacente sequestrata previa a campionatura sarà analizzata presso il competente laboratorio del Comando Provinciale di Palermo. L'arresto è stato convalidato dal GIP di Termini Merese che ha disposto l'applicazione della misura cautelare in carcere. Notizia di cronaca dal Trapanese, per la precisione da Paceco. I carabinieri della locale stazione hanno infatti sottoposto una donna classe 73, gravata da precedenti di polizia, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, dando così esecuzione a un'ordinanza emessa dal Tribunale di Trapani. L'odierno provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative raccolte dai carabinieri a seguito della denuncia di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente raccolta dagli stessi militari dell'arma. Sono stati quindi documentati una serie di minacce e comportamenti violenti che la donna avrebbe riservato alla madre ultraottantenne, tanto da generare nella stessa un forte stato di ansia e timore per la propria incolumità. Per questo, come detto, per la donna classe 73 è stato disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Parliamo adesso di politica. Andiamo a vedere le recenti dichiarazioni di Gianfranco Miciche, ovvero il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. Continuo a percepire, ha detto Miciche, una costante preoccupazione circa la mia possibile rielezione a presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Così come tutti sanno, io sono una persona seria e cinque anni fa fui eletto su indicazione della maggioranza. Sono sicuro che anche stavolta sarà eletto il deputato indicato dalla nostra coalizione. Vorrei quindi rassicurare il presidente della regione Schifani. Non sono necessarie le dimissioni perché io non sarò candidato alla presidenza dell'ARS. Ed ora le brevi meteo a cura del centro meteorologico di Piazza Armerina. Buongiorno e benvenuti alle previsioni meteo. Il primo freddo della stagione è in arrivo. Il caldo alle ore condate, una perturbazione atlantica associata a correnti più fredde, farà abbassare la temperatura di 10 gradi, richiamando piogge e forti venti da maestrale, con nevicate anche abbondanti sull'Etna a circa 2000 metri di quota. Da Davio e Carterasi è tutto, una buona giornata. Alla prossima giornalmente. È tutto, non ci sono aggiornamenti, ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24 per una nuova edizione di Spazio Notizia.